4 3 2 1 via 50 albiri tornante sinistro ritarda per ritarda tornante destro vai 100 100 al rail ritarda tornante sinistro 20 albiri ritarda tornante destro in fila sinistra 3 più per destra 2 più subito sinistra 2 lunga chiude in uscita 30 al muro sinistra 3 più per destra 3 2 tempi dopo rovescio apre 4 50 a vista rail sinistra 3 più per destra 5 lunga a fine siepe chiude 4 chiude 4 subito sinistra 4 lungo sconnesso apre a fine rail apre a fine rail 50 albiri sinistra piena 100 a vista attenzione inganna destra 5 15 ritarda tornante destro 70 inganna rail sinistra 5 chiude in tornante sinistro chiude in tornante sinistro subito destra 4 2 tempi sinistra 3 meno butta fuori sconnesso in destra 4 subito sinistra 4 più vai 50 al cartello sinistra 3 più sconnesso per destra 4 rovescio chiude tornante destro 30 sinistra per destra 3 più vai 30 sconnessi destra 5 20 attenzione al palo tornante sinistro molto sporco molto sporco 30 sinistra 5 70 a metà muro sacrifica sinistra 4 sì sporco per tornante destro vai 50 destra 5 50 destra 5 50 destra 5 50 destra 5 al giallo sacrifica sinistra 4 per destra 3 più subito sinistra 3 due tempi la seconda butta fuori per destra 3 sì sporco in fila sinistra 3 più destra 4 lungo lungo tieni a rail sinistra 1 apre a fine rail sinistra 1 apre a fine rail 50 al muro sinistra 3 al muro sinistra 3 per al rovescio ritarda destra 3 media al 21 apre 50 al 21 apre 50 destra 3 media al 21 apre 50 ai bidoni destra 5 per sinistra 5 per destra 5 per destra 500 attenzione chicane ingresso sinistra bidoni destra 5 fatti di seconda destra 5 lungo lungo tieni sì lunga lunga tieni sì al cancello sinistra 4 30 al 22 sinistra 4 100 sacrifica sinistra 4 sì subito destra 2 lungo vai 2 lungo vai al muro sinistra 5 chiude 4 sinistra 5 chiude 4 al verde chiude 3 io boio che fumano va bene va bene molto sconnesso 30 alla macchia sinistra 4 per destra 3 destra 3 30 a vista albiri destra 2 meno gira 6 stai stretto subito tornate sinistro 50 attenzione al re il sinistra 3 meno 3 meno 15 attenzione alla casa chiude 2 più sacrifica sinistra 3 più per tornate destro vai 50 vai dentro buono così albiri destra 4 meno destra 4 meno per sinistra 3 più destra 4 stai largo alla casa chiude 3 50 alla casa chiude 3 50 sinistra 1 attenzione destra 3 sì molto sconnesso sinistra 3 molto sconnesso 50 sinistra 4 sconnesso a rosso chiude 3 a rosso chiude 3 destra 3 più subito sinistra 3 più lungo alla riva destra 4 chiude 3 molto lungo apre all'albero chiude 3 molto lungo apre all'albero sinistra 4 più sì sconnesso per attenzione destra 4 sconnesso all'albero destra 5 sconnesso per sacrifica destra 4 subito albiri sinistra 3 lungo sconnesso in entrata sporco sporco 30 destra 5 per sinistra 4 sì per destra 3 più 20 sinistra 3 più subito destra 4 50 sinistri al muretto più del 4 molto sconnesso molto sconnesso va bene così o no non ho mai dato gli intertempi te l'ho dato eravamo uguali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti